Tra le tante idee innovative qui al MacFruit 2016 a Rimini Fiera troviamo anche gelato Lady Fruit. Ne parliamo con il presidente Gianfranco Tonti che è il presidente di IFI S.P.A. Dunque Tonti, di cosa si tratta? Ci spieghi un attimo questo progetto. L'idea nasce da un problema che è condiviso da tutti gli addetti ai lavori e cioè viene gettata una quantità enorme di frutta. Ecco questo è un problema ma vuol dire che tanto lavoro e tanto buon prodotto viene sciupato. Allora noi abbiamo pensato di creare un progetto che parte da questo problema e passa attraverso la messa a punto di una piccola postazione compact in cui si trova tutto ciò che occorre e mi riferisco a una macchina per gelato a un lavello con rubinetto, un piano di lavoro per la preparazione della frutta a una piccola vetrina per esporre il prodotto, una piccola cella frigorifera che non occuperà più di 5-6 metri quadri dentro un locale tant'è vero che noi l'abbiamo chiamata gelato shop in the shop e praticamente quella frutta che non può più stare al banco di vendita perché il consumatore non la vuole più, non la compra più ecco è meravigliosamente ottima per fare del sorbetto perché dopo un po' di giorni la frutta perde del contenuto d'acqua.